Presidente, il Trabocco Turchino è un po' il simbolo della nostra regione, voi con Banca Intesa partecipate a questo progetto per il restauro del Trabocco che è stato premiato più volte anche dal FAI. Sì, questo senz'altro per noi è un piacere veramente perché è un punto di costa particolarmente bello nell'ambito dell'Adriatico è uno dei punti più belli della costa. Noi siamo assolutamente vicini a questi altri Trabocchi che, come dicevo in conferenza, vorremmo che fossero tutti quanti rimessi e soprattutto usati al meglio per un richiamo turistico che abbini la cultura e l'ambiente e il territorio. Non dimenticando che l'Abruzzo è considerata la regione verde d'Europa. Sindaco, a breve partirà il restauro del Trabocco Turchino, una bella notizia per quello che è uno degli emblemi della nostra regione. Sì, una buona notizia e una grande soddisfazione per noi e per tutti quelli che ci hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo. Il contributo del FAI, intesa San Paolo, viene da lontano perché abbiamo partecipato a metà del 2018 al nono censimento dei luoghi del cuore e la raccolta firme ha dato degli ottimi risultati. Abbiamo superato i 20.000 firme e nel frattempo e nell'estate del 2018, tra l'altro, questa attività ha dato grande visibilità non soltanto al Trabocco Turchino e a San Vitochiettino, ma a tutta la costa e all'Abruzzo. E ora raccogliamo i frutti. È un progetto interessante, si tratta di un progetto di 25.000 euro per un restauro, quindi si tratta di ripristinare laddove possibile i materiali e le tecniche di costruzione correggendo in qualche modo piccoli errori che sono stati fatti durante la ricostruzione del 2015-16.